A garantirlo è stato il presidente Paolo Montemurro durante il suo intervento telefonico alla prima puntata di Sveva Sport estate, andata in onda venerdì scorso in diretta sui nostri canali social e ieri sera su Telesveva. Quella che comincia oggi sarà la settimana decisiva per l'annuncio del nuovo allenatore della Fidelis. Il dirigente di riferimento Andriesia non ha chiuso le porte ad una terza opzione, ma i favoriti, come successore di Aldo Papagni alla guida dell'Andria, restano sempre Ciro Ginestra nell'ultima stagione alla guida del team Altamura in Serie D e Roberto Taurino ex Nardò sempre in quarta serie. Giuliano Antonicelli, confermato dallo stesso Montemurro come uomo mercato della Fidelis, è tornato intanto al lavoro per cercare di aggiungere pedine all'organico composto al momento da diversi giocatori con un contratto che va oltre il prossimo 30 giugno. L'obiettivo numero uno è sempre quello di riportare al degli ulivi l'attaccante Leonardo Taurino di proprietà della Ternana, praticamente scontati i prolungamenti di conoscenza. Il contratto con il difensore Giuseppe Bruzzese e l'attaccante Riccardo Lattanzio, gli accordi ci sono già, mancano di fatto soltanto le ferme. Avviati sondaggi infine con Lorenzo Di Livio, figlio d'arte centrocampista offensivo classe 97, nell'ultima stagione prima alla regina e poi al Matera in Serie C e con il suo coetaneo Stefano Tarolli, portiere che ha esordito in Serie B con la maglia del Foggia, proprio nel derby giocato al San Nicola con il Bari.